Siamo a Brescia al Brixiaformo che è una struttura fieristica di questa importante città lombarda siamo all'ingresso del concerto, uno degli ultimi concerti del tour che Antonello Venditti e Francesco De Gregori stanno tenendo dallo scorso anno, il tour si concluderà a Natale a Roma ma questa è una delle ultime tappe del nord a Brescia stiamo per accedere all'arena dove si svolgerà il concerto Allora qui abbiamo i colleghi di Radio Bruno, noi siamo Radio del Lazio, Radio Erdica Quindi buon lavoro, lo speaker di Radio Bruno come ti chiami? Non ho capito Come ti chiami? Michele Michele, collega di Radio Bruno, noi siamo Radio Erdica di Anagli Buon lavoro Dopo aver incontrato i colleghi di Radio Bruno siamo entrati nell'arena è un'arena abbastanza grande, circa 2000 posti che si vanno riempiendo manca circa mezz'ora al concerto e come potete vedere la panoramica dell'arena offre veramente un colpo d'occhio delle grandi occasioni, pubblico delle grandi occasioni ma come abbiamo già detto i due cantanti si accingono a concludere questo tour che ha attraversato il 2022 e il 2023 Ci siamo avvicinati alla regia video e audio del concerto, è il vero cuore tecnico della manifestazione Queste sono le apparecchiature, il set di apparecchiature lo Shack che consentirà a questo numeroso pubblico di sentire e di godere di questa musica, di questo concerto molto molto atteso